Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Wartomas46, benvenuti in questo nuovo video, siamo in un nuovo video unboxing. In questo video unboxing vi recensirò, per quanto si possa recensire un prodotto così piccolo, una microSD della Samsung da 64GB. Punti a favore, innanzitutto prima di prendere la scatola vi le elenco perché sono punti a favore dati dall'acquisto, sono la capacità molto ampia di 64GB appunto e il prezzo molto ridotto. Ora andiamo ad aprirlo, come vedete il pacchetto Amazon che mi è arrivato in un giorno, ho avuto una spesizione avendo fatto l'avvolamento Amazon Prime, davvero molto utile. Apriamo. Ecco qui ci troviamo, questa appunto è la scatoletta della Samsung, 64GB, alcune informazioni, ad esempio ultra fast performance come si può leggere qui. Poi abbiamo anche un adattatore SD che ci viene fornito con una capacità fino a 48MB al secondo in scrittura. Ok, ora possiamo vedere altre informazioni come classe 10, altre informazioni all'interno, waterproof, quindi impermeabile, magnetproof, quindi il magnetismo non dà problemi a questa scheda, temperature, il sistema ha anche molte temperature, quindi ottimo. Diamo una rapida apertura. Bene, dopo aver aperto il prodotto si mostrerà in questa pratica confezione come appunto la microSD e anche l'adattatore. In conclusione questo prodotto qualifica come un prodotto molto buono, con un prezzo ridotto e una capacità molto ampia, velocità di tutto rispetto. Consigliato per dispositivi mobili e anche per videocamere o altre cose del tipo che possono supportare questa capacità. Per questo video unboxing è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!